Sono Donato e benvenuti tra le vigne satellitari. Aglianico stellare I vigneti delle terre vulcaniche dell'Aglianico in Basilicata sono osservate H24 dal satellite. Raccoglie un flusso continuo di dati sulle condizioni del terreno, sulla crescita delle viti, sul clima, in tutte le stagioni. Restituisce modelli di calcolo, che per i viticoltori si traducono in messaggi che indicano quali e quanti filari annaffiare, potare, concimare. L'evo traspirazione dei vigneti è tra i fondamentali elementi di calcolo per assicurare la perfetta crescita dei grappoli. Ma sono numerosi e diversi i fattori che incidono sul perfezionamento del modello, che stagione dopo stagione, annata dopo annata, costituiscono una banca dati in grado di affinare la conoscenza. Servirà a produrre un vino di qualità, ma anche viticoltori del futuro, capaci di anticipare i fattori antagonisti e agendo in tempo utile a preservare uve eccellenti da affidare alle botti. Il passo successivo sarà quello di andare a formare tutti i nostri viticoltori affinché possano inserire loro stessi, tramite una piattaforma messa in piedi da noi, i trattamenti, tutto ciò che vanno a fare nel vigneto, in modo tale che andiamo a correggere quell'errore strumentale che potrebbe esserci. Non c'è cimatura che non sia il risultato di un'indicazione precisa e le numerose informazioni processate valgono a correggere errori strumentali che si traducono in modelli previsionali, da incrociare con i dati storici. I primi risultati sono l'abbattimento del consumo idrico e del ricorso ai trattamenti, oltre agli SOS sul determinarsi di condizioni favorevoli ad attacchi parassitari. Il resto è sapienza antica in cantina, creatività e conoscenza dei mercati. Questo lembo di sud scommette sul digitale e sull'innovazione. Tra questi filari non si raccoglie solo uva, ma dati, tantissimi dati, che affinano un alienico sempre più ambizioso.